Benvenuti e bentornati su Radio Lucrezio! Bene, bene, grazie a tutti. Oggi portiamo novità. Infatti, come potete vedere, ci troviamo in una location un po' diversa dal solito. Allora, abbiamo deciso, grandi novità, la scuola ci ha sfrattato, non è vero. Volevamo questa location per un argomento che affronteremo dopo in puntata. Insieme a noi in puntata ci sono... Io, Davide. Io, Viola, nuovi di Radio Lucrezio. E poi, vabbè, adesso non li vedete, ma c'è un meraviglioso pubblico, quindi faccio il pubblico. Grazie, bravi, bravi, bravi. Vi ringraziamo per essere venuti oggi e direi che possiamo direttamente iniziare. Quindi, sigla! Eccoci qua. Anche i tecnici in puntata li salutiamo, ovvero Sal e Sib, due capostipidi della nostra redazione. Però fondamentale ringraziamo il Bobar che oggi ci fornisce l'elettricità di base. Ma la domanda che ci poniamo oggi è perché ci troviamo qua? Voi che mi sapete dire? Interrogazione al volo. Interrogazione a sorpresa. Grecia sta morendo, sì o no? Il microfono sicuramente sì. Il microfono già sì. Allora, Piazza Grecia, luogo di ritrovo del Lucreziano Medio fin da avanti Cristo, mi confermano anche dalla regia. E non so, voi l'avete notato questo cambiamento? Beh, te sei in primo. Io sono in primo, quindi non posso parlare. La prima impressione di Piazza Grecia. La prima impressione di Piazza Grecia è stata molto bella perché è stato subito un luogo magico. Non posso dire di averla sentito come una persona che ha più esperienza di me sicuramente perché è un luogo storico. Però fa sempre un certo effetto tornare per questi vicoli. Davide, ti consiglio un buon oculista perché comunque va bene il legame sentimentale ma dire che è bella è un po' un azzardo architettonico. Dici, te Viola? Ma io sto in terzo, quindi sì mi sono vissuta un po' a Piazza Grecia, però devo dire la verità l'ho frequentata più quando magari si entra in seconda, si fa la colazione, si ripassa, però comunque è un bellissimo luogo di condivisione sicuramente. In secondo ovviamente perché hai pisciato la prima. Ovviamente. No, perché noi in primo. Ma non lo diciamo a nessuno. Infatti. Però dobbiamo dire che appunto sta morendo, io la vedo da un punto di vista comunque da più anni. Io comunque sono in quinto e si nota molto questa differenza perché comunque al mio primo anno, ok che non la frequentavo tantissimo perché c'è un po' di timidezza, ti nascondevi un po', non ti vuoi far vedere. Però adesso effettivamente è vuota. Ahimè. Allora, in realtà io fin dal primo l'ho frequentata, è stato sempre in un bel ambiente, tanta gente simpatica, un po' disagiata. E secondo me sì, è innegabile dire che stiamo morendo, ma saremo noi meno socializzanti. Qual è il problema secondo voi? Però noi terremo duro su questo capitolo di Grecia. Cioè il mondo vuole far morire Piazza Grecia e noi siamo qua perché non deve accadere ciò. No, secondo me le attività extra scolastiche fanno morire Piazza Grecia. Sì, sì, sono d'accordo. Perché alla fine uno esce da scuola. No, spiega un po'. Cioè uno esce da scuola ormai, comunque sono sei ore in cui stai sul banco, stai in classe, non te va a desalà perché effettivamente... Eh certo. E cosa facciamo? Cosa facciamo noi dopo scuola? Niente, esci con i tuoi amici. Io personalmente dormo. Ok, perché la nostra direttrice ha 40 anni, la vecchiaia si fa sentire. Tipo Davide, io so che è un grande sportivo di... Sì, faccio canoa, però che è differente dal canottaggio. Infatti la differenza ha mai capito. Infatti la differenza ha mai capito, ma molti la confondono e questo è un capitolo molto importante perché diciamo che il canottaggio si va indietro, invece a canottaggio si va avanti. Questa è la cosa che dico alle persone che lo confondono. E poi soprattutto a canottaggio si ha una pagaglia sola, invece a canottaggio si ha i due remi, è un altro sport completamente. E quindi così le persone di base cominciano a capire la differenza. Che viola? Mai pure sportiva, palestra, beach volley, poi studio perché ci tocca. Studio. Vabbè beach volley è un po' più facile però. I bcto? Mi impegno ai pomeriggi? No, io no perché sono in primo quindi... Giusto. Non so cosa dirti. Non lo devo stare. Ah, bcto a parte il chiusone sul corso della sicurezza che abbiamo fatto tutti un giorno prima della scadenza, che ti guardavi video H24, però no, devo dire nel pomeriggio non tanto. No Dio, io sono una persona che comunque ha tantissimi impegni, ma veramente tanti, tra scuola e attività fuori è veramente una corsa ogni volta. Proprio a proposito di scuola. Appassionati di corsa. Sentite che vi impedisce di sviluppare le vostre passioni? Sì. Io personalmente un po' sì. Un pochino sì, soprattutto anche per la visione un po' antica che c'è ormai della scuola. Perché ci sono dei professori che magari lavorano abbastanza da tanto tempo, come dei professori che lavorano da 40 anni e... Siete dei vecchi, però. Con tutto il bene del mondo. Con tutto il bene del mondo. Però magari c'è una visione un po' arcaica di quella che può essere la scuola adesso moderna con tutte queste attività pomeridiane. Voi, bifolchi dal pubblico, avete dovuto abbandonare qualche attività pomeridiana in favore della scuola? Prendi il microfono. Ciao, sono Luca, del quarto G. Ciao Luca. C'è un'attività che hai dovuto abbandonare per studiare di più? Sì, è abbastanza comune, non solo per me, ma per molti studenti, dover abbandonare spesso anche attività sportive. Per esempio, io vado in palestra, spesso mi capita di dover saltare la palestra per dover studiare, è una cosa parecchio comune. Ho anche altri impegni come uscire con gli amici, ma quelli sono... E casualmente salti. Casualmente sempre. Va bene, grazie Luca. Una domanda così, di marketing. Questa tazza te la compreresti? Subito. Ok, grazie. Secondo voi invece, oltre a sport e studio, ci sono delle passioni, degli hobby che vi sentite di aver tralasciato o che magari vorreste fare, però per colpa di studio e scuola non potete. Per esempio, a me piacerebbe tantissimo fare volontariato in diversi centri, però mi rendo conto che le giornate durano 24 ore e non 48, insomma. Voi? Parto io in senso anti-orario. Allora, una triste realtà è che io alle medie ero infognato di videogiochi, ma per lo studio ho dovuto abbandonarli. Ora, guardando indietro, ne sono contento, però al tempo fu un grande trauma. Ancora non elaborato, da il motivo per cui sono... Pazzarello. Saresti diventato un gran gamer. No, io invece, sempre alle medie, ho dovuto rinunciare alla danza classica dopo otto anni che la facevo. È stato un trauma, possiamo dire. Però col fatto che comunque non avevo tempo, devo studiare tantissimo, ho lasciato questa passione, tra molte virgolette. Io invece sono sempre stato molto sportivo, diciamo, e anche adesso continuo a fare sport, però è molto complicato conciliare sia la scuola sia lo sport, dando priorità a tutte e due. Poi cerco anche di buttarmi nel mondo della musica, ma purtroppo questo deve restare soltanto un hobby perché sennò non posso più sentire i professori che mi dicono che studio poco. Allora, a me però sorge un dubbio abbastanza naturale, ovvero finito il liceo, ma avremo sempre problemi di gestione del tempo? Che si fa all'università? Cioè, per caso, qualcuno nel pubblico che sta in ambito universitario e può dirci qualcosa? Ok, allora, noi siamo Vic. Fico. E siamo al secondo anno di università e le nostre impressioni sono che, almeno le mie, sono che gestire il tempo è ancora più difficile perché, tipo, lavori per guadagnare un po' di soldi, dato che tra un po' ci tiriamo dalle nostre case. Vi tocca. No, ragazzi, si studia molto di più. Io non vorrei sfatare questo video, ma voi al liceo non fate nulla. Si stava molto meglio al liceo, ragazzi, non si fa nulla. Sì, è vero, all'università si studia un botto, però si studiano cose che hai scelto tu e quindi è un po' meglio. Però, allora, già che siete qua, che comunque siete ex lucreziani, vi chiediamo, come l'avete vissuta voi Piazza Grecia? Eh, beh, è un posto mitico, ragazzi, è molto bello. C'era una signora che andava sempre qua, che è morta, e gli hanno dedicato, tipo, questa statua. È la statua di Ian Palak, quella. Vabbè. No, scusatemi. Che non credo. No, scusatemi. C'è una storia di una signora che andava tutti i giorni qua, e gli hanno dedicato, tipo, una targa, però. Non è la stata, ok, ragione, però gli hanno dedicato una targa. Forse sta dietro. No, volevo dire questa cosa, perché lei, che ha passato tutta la vita qua, gli hanno dato una targa. Quindi, se voi passate tutta la vita qui, vi daranno un merito, insomma. Cioè, ragazzi, non so da sto dicendo. Vabbè, comunque, noi al liceo ci abbiamo passato un po' di vita qua, tutti i giorni, il bar è buono, si mangia bene, aperitivo buono, e poi ci abbiamo fatto tutto, abbiamo studiato, abbiamo fatto la radio, abbiamo fatto gossip, abbiamo scazzato. Anche perché Radio Lucrezia è nata a Piazza Grecia. Esatto, è nata dentro al bar, e poi ci siamo spostati fuori quando è diventata estate. E quindi, niente, è bella Piazza Grecia, ci manca un po'. Ci avviciniamo alle conclusioni, anche perché i tecnici stanno per fare la rivolta dei populares. Abbiamo capito, in parte, il problema di Piazza Grecia, abbiamo capito cosa facciamo noi, Lucreziani, il pomeriggio, e quindi è il momento di salutarci. Qui Nina vi darà qualche news per il futuro di Radio Lucrezia. Sì, perché comunque quest'anno ricominciamo, come avete capito da questa puntata, parleremo di attualità, di Europa, di voti, di registro elettronico di nuovo. No, basta, non è colpa nostra, signori e signori, non è colpa nostra. Mi raccomando. Vi ricordiamo che quest'anno usciremo di mercoledì, quindi mi raccomando, seguiteci. Ci trovate sempre su YouTube, Spotify, Google Podcasts e per contenuti extra anche su Instagram e TikTok come Radio Lucrezia. Siamo arrivati finalmente, saluti finali. Noi ringraziamo il pubblico per essere stato qui con noi. Vogliamo anche ricordare che tante radio qui a Roma stanno nascendo tra le scuole, ma noi siamo gli unici originali e mentre voi iniziate dalla prima, noi siamo già la terza. Boom! Basta. Radio Lucrezio è un podcast prodotto dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Tito Lucrezio Caro di Roma. Direttrice, Anna Maia De Angelis. In puntata, Anna Maia De Angelis, Giulio Lorusso, Viola Gagliardi e Davide Camarlinghi. Alla regia, Sava Sabo e Sibilla Iannicelli. Post-produzione, Luca Ronchetti. La sigla di Radio Lucrezio è Le ruote, i motori di Fulminacci. www.liceotitolucreziocaro.edo.it slash Radio Lucrezio Dopo scuola, tutti a Grecia!